Come smontare e pulire lo scarico della doccia. Partiamo col dire che esistono diversi tipi di soffioni per la doccia. Se il tuo non somiglia a questo, prova ad andare a vedere l'altro video sul nostro canale. Puoi trovare il link in descrizione. Rimuovi il coperchio con il tubo annesso. Questo tubo potrebbe non essere attaccato al coperchio. Se così fosse, dovrai rimuoverlo. Ora sflia il filtro di plastica. Se non li hai mai puliti, potresti trovarli davvero sporchi ed incrostati come in questo caso. Procedi con la pulizia di tutte le parti rimosse. Se necessario, puoi utilizzare del sapone. Il coperchio può essere separato dal tubo. Ti basterà un cacciavite. Una volta pulito tutto, otterrai un risultato come questo. Adesso svolgi le operazioni al contrario per rimontare il tutto. Se il video ti è stato utile, lascia un piacere semplice.